Questa è la Chiesa, l'insieme di fratelli e sorelle uniti dal prezioso sangue di Gesù Cristo, accomunati dallo stesso Spirito che ci porta ad esclamare Abba, Padre. La Chiesa è quindi l'insieme di persone rinnovate dall'amore di Dio e sebbene con tutti i limiti umani restiamo comunque uniti con vincoli d'amore, pregando l'uno per l'altro e servendo il Dio in attesa del suo regno futuro che già ha cominciato a dimorare nei nostri cuori. La Chiesa di Cristo è una ricchezza inestimabile. Grazie